Più di 3.500 tonnellate di rifiuti ingombranti abbandonati per strada sono stati rimossi da gennaio e il risultato di oltre 46.500 interventi effettuati da 24 squadre di AMA dedicate a questo tipo di raccolta. Mediamente ogni notte vengono effettuate circa 350 operazioni e rimosse oltre 20 tonnellate di rifiuti ingombranti. Cittadini romani possono indicare dove posizionare le colonine elettriche in città. Attraverso la compilazione di un modulo sul sito di Roma Servizi per la Mobilità sarà possibile costruire una mappa sull'elettrico per aumentare il servizio. Ad oggi sono già arrivate oltre 300 segnalazioni da parte dei cittadini. E' partita la riorganizzazione del sistema delle residenzialità per gli anziani. Agli attuali 104 posti di accoglienza ne saranno aggiunti altri 208 per un graduale superamento delle case di riposo tradizionali. Saranno realizzate strutture a gestione familiare o in semi autonomia con diversi livelli di supporto assistenziale.